Di Camani sono fiducioso che l'ho visto ieri provare per bene, mi sembra che ora vediamo un ultimaneamento che potrebbe essere recuperato, dovrebbe stare bene, dovrebbe essere recuperato. Di quante ve lo sto aspettando, stiamo aspettando che ieri questo problema avrà capito, vediamo. Quello devo capire quando è vero appunto, non so di più molto di più.